da tutti noi, cioè da Michele, dalla fondazione, da quello sbirolo di mio figlio che non conosci ancora ma avrai modo di conoscere quel suo reale, auguri di cuore da tutti noi ecco qua, che cos'è? Ah che bello, si chiama l'ultimo bacio bacio distratto guarda, favoloso, bacio distratto benissimo